Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in anticipazione, trovate qui in alto la recensione, la prima maglia del Liverpool per la nuova stagione in edizione FAN. La prima maglia del Liverpool per la nuova stagione. A me la maglia piace molto, è una maglia semplice, con un bellissimo rosso, nella mia classifica prende 4 stelle. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno. Il costo lo vedete qui sopra, ecco, su questo non si discute. Se pensate che per questa maglia questo è il costo, beh, fate voi i vostri ragionamenti. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari. Quindi, beh, non vi resta che correre a comprare la maglia. Vi lascio ora la parte finale. Prima però, mi raccomando, lasciate un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Buon anno. Grazie a tutti.